Io non posso dare la formazione fino all'ultimo momento per non dare vantagos allo avversario. Intendo, scusami, saluto. Andiamo a cercare qualcun altro nel testo. Un altro giocatore, che so. No, è un sabibere, sto alcolico. Coca-Cola, Coca-Cola. Io sono della provincia di Chieti, approfitto per salutare tutti i parenti. Grazie. Prego, prego. Ecco il nostro Cesarini, lei domani ritorna in campo dopo un periodo di riposo forzato. Sarà una partita dura? Ma penso di sì, comunque noi ce la metteremo tutta, anche loro ce la metteranno. Speriamo che la nostra tutta sia un po' più tutta della loro. Questo è tutto. Usa della sua dimidizia. Sentite? Questa è l'atmosfera che si respira alla vigilia dell'incontro Francoforte-Marchigiana. E per ora è tutto. Ma che ritorna? Non mi vuole mica dare un altro schiaffo, eh? Quello schiaffo le ha portato fortuna. Vabbè, me ne dia un altro così va di nazionale, ok? Signorina, signorina. Allora lei questa sera è invitata da noi altri alla birreria Europa, andiamo a festeggiare. E il giocatore lo so, non potete venire, dovete andare a letto presto. Ma lei può. Ci andrà? Perché no? Ah, si va? Mister, mister, andiamo tutti alla birreria Europa che si fa festa questa sera. Caro amico, è stanocce se duerme alle 8.30 a todo saletto, è intendito? Vabbè, io non ci vado a letto. Come, è sabla? Eh, ho detto che io non ci vado. Come? Che io non ci vado alle 8, ci vado alle 6 perché mi sento tutto in tontes, è da stamattina. Anche se lei mi aracca, ma mi aracca. Ciupito. Mi aracca molto, ecco. Mi aracca molto, ecco.